Vendessi sarmede, prezzi modici, agevolazioni per ristrutturazioni, meglio se artisti o uomini di cultura dall'estero. Potrebbe essere questa l'inserzione che il Comune ai piedi del Cansiglio in futuro potrebbe diffondere in tutta Europa con l'obiettivo di fermare l'abbandono e il conseguente degrado di borghi come Rugolo o Montaner. Noi stiamo vivendo un periodo non proprio felice, nel senso che la natalità sta calando, la popolazione sta sempre più invecchiando e quindi dobbiamo comunque dare l'opportunità che i servizi rimangano nel territorio altrimenti veramente lo spopolamento che è già in corso in questi anni si accentuerà sempre di più. E la prima occasione, o per meglio dire vetrina per la vendita, è un bando europeo vinto proprio da Sarmide in collaborazione con la regione austriaca della Carinzia. È un'opportunità per tutti noi perché darà modo di poter far conoscere Sarmide nell'area carinziana dell'Austria, di portare persone, quindi turisti, da lì a qua e quindi tutto questo con la speranza che alcuni di loro si innamorino dei nostri luoghi e si fermino a viverli. Sarmide del resto non è l'unico territorio a rischio spopolamento. Proprio in Austria, paesi fantasma con la stessa ricetta, sono tornati a vivere. Gli artisti dell'Est si sono trasferiti lì, hanno recuperato i mobili fatiscenti e per 3, 4, 5 mesi all'anno li vivono facendo anche arte di strada. Inevitabile riferimento a Stefan Zavrel che dopo anni di fuga dalla cortina di ferro si stabilì a Rugolo portando la sua arte dell'illustrazione per l'infanzia e trasformando Sarmide in capitale mondiale delle immagini della fantasia.